Caldo record volontariato in aiuto ai fragili Marotta ottantenne saccascia e muore in spiaggia Antenne telefonia al lavoro per un nuovo regolamento In Baia Flaminia quattro giorni con la festa dell'unità 16 contrade e un inno torna il paglio dei braceri Buona serata a tutti voi telespettatori di Rossini TV Ben ritrovati a Rossini News, il nostro spazio informativo della sera del canale 80 Questo telegiornale di martedì 18 luglio viene aperto occupandoci del picco di caldo estivo Che come da previsioni si sta consumando nella giornata odierna E che continuerà anche in quella di domani Una situazione che espone a rischi molto critici Soprattutto anziani e categorie fragili E a tal proposito l'Auser provinciale sta andando in soccorso a queste categorie Portando a limitarne gli spostamenti E' previsto in questi due giorni tra il 18 e il 19 luglio Il picco di questo caldo estivo Per lo meno di quello registrato finora Ed è un momento molto dedicato Soprattutto per le categorie più fragili come gli anziani Una categoria seguita particolarmente dall'Auser Che in questi giorni sta ricevendo diverse richieste in tal senso Sì, abbiamo già con una progettazione provinciale e nazionale Con i nostri dirigenti Previsto per quest'estate queste situazioni E ci siamo attrezzati per implementare servizi che già facciamo Ma per metterli a disposizione in questo momento in maniera ancora più efficace Visto il caso che non escano gli anziani e le persone fragili Anche i disabili con queste temperature E quindi cerchiamo di andargli incontro in ogni modo possibile Supportandosi su quelle che sono le necessità impellenti Necessità impellenti che ci sembra di intuire Che si riferiscono nell'evitare al più possibile gli spostamenti O comunque di agevolarli con degli accompagnamenti Sì, soprattutto per fare la spesa Per fare visite che in questo momento sono anche necessarie per questa categoria Cerchiamo di evitare di fargli prendere i tram Che solo l'attesa o comunque il trasporto È un percorso complicato per una persona che ha fragilità E quindi gli anziani in particolare E poi anche tutto quello che può essere l'emergenza farmacia L'emergenza di altre tipologie di servizi che possiamo dare A volte anche lo stesso supporto in casa Perché magari sono soli e non potendo uscire Hanno bisogno di parlare con qualcuno Anche con il telefono amico Quindi facciamo anche chiamate mirate Per tenere un po' compagno alle persone E poi cercando di farli uscire nelle ore più fresche E non farli andare, ad esempio, quelli degli orti sociali Nelle ore più calde della giornata Perché lì è veramente deleterio Oltre alla fatica del far l'orto Andare a temperature di 35-40 gradi è assurdo Quindi cerchiamo di fare un po' di prevenzione E un po' di interventi mirati su queste cose Queste categorie come fanno a rivolgersi a voi? Allora, mediamente ci trovano Perché abbiamo un buon radicamento sul territorio Sia di circoli Pesaro ad esempio ne ha 4 più il provinciale Sia di associati Solo a Pesaro siamo oltre 1000 associati E quindi c'è il passaparola E comunque i nostri presidenti sono sempre raggiungibili O nelle loro sedi O comunque nei punti di ritrovo E quindi il passaparola funziona moltissimo in questo momento Addirittura c'è qualcuno che ci segnala situazioni Che conosce Che magari né l'amministrazione né noi Potremmo venire a sapere Quindi diciamo che la rete dei cittadini La rete delle associazioni sta funzionando Anche con le altre associazioni Ci stiamo interfacciando E costruendo un servizio per il cittadino fragile È il migliore possibile E il caldo estremo potrebbe essere stata Una delle concause Per le quali un pensionato ottantenne È morto questa mattina in spiaggia Amarotta Attorno alle 10 Ai bagni Solindo L'uomo residente in provincia Si è accasciato fatalmente Perdendo i sensi di fronte ad altri bagnanti Immediata la chiamata dei soccorsi E l'ambulanza compresa Un intervento purtroppo vano L'uomo non ce l'ha fatta E l'elisoccorso si è rialzato in volo vuoto Ed ora torniamo a parlare Di antenne di telefonia La cui installazione a Pesaro Continua ad essere foriera Di dibattiti e polemiche È il caso di quella installata In zona muraglia Che è stata fra i temi discussi Nel consiglio comunale di ieri a Pesaro Dopo le proteste dei residenti Con tanto di raccolta firme Rivolta alla rimozione L'antenna di telefonia Alta 25 metri Collocate in via Beccaria Nella zona muraglia Monte Granaro È arrivata ieri In consiglio comunale L'assessora Maria Rosa Conti Che già aveva intimato La rimozione dell'impianto Inopportuno per vicinanza A case d'asilo Ha ribadito che l'antenna È di carattere temporaneo E che va dismessa Entro 120 giorni Dall'attivazione Attivazione che ancora Non è stata effettuata Visto lo stallo creatosi L'antenna è lì Perché come spiegato Dalla Conti È figlia di una norma Che permette al gestore Di installare l'impianto Senza autorizzazioni Al di là delle verifiche Positive di ARPAM Conti che però Ha deciso di aprire la strada Una modifica regolamentare Per stilare un piano Di siti idonei Con indirizzo politico condiviso Diciamo ascoltando Il comitato di quartiere Che si era formato Per questo luogo Di via Beccaria E diciamo Sulla scorta Di questa condivisione Di queste proposte Anche fatte Insieme all'ufficio Tecnico Insieme ad ARPA Si è deciso Di inserire In questa delibera Di giunta Un indirizzo politico Che vada A modificare Sostanzialmente Nel senso Da un punto di vista Contenutistico Sostanziale Il regolamento Che noi oggi Abbiamo in essere Per assicurare Il corretto insediamento Urbanistico E territoriale Degli impianti fissi Delle telecomunicazioni E radio televisivi E anche il piano Di siti doni Della telefonia mobile Che noi sappiamo Tutti essere stato Approvato nel 2019 Con delibera di giunta Per quanto riguarda Questo tipo di percorso È un percorso Che sarà condiviso Quello di andare Condiviso Anche obbligatoriamente Condiviso Perché si tratta Di andare a modificare Un regolamento comunale Che poi dovrà passare In consiglio comunale E anche fare Diciamo Un imponente lavoro Che diciamo Sarà svolto Dall'ufficio ambiente Insieme A un consulente Che si è occupato Di oltre mille piani Di rete Per quanto riguarda Insomma Vari comuni Dal 2001 In tutta Italia E Da questo punto di vista Quindi Ci sarà la massima Condivisione Anche con la comunità Anche con i quartieri Con i vari comitati Sia per quanto riguarda Via Beccaria Che ricordo però Essere una Antenna temporanea Non hanno ancora Attivato anche l'antenna Perché come Come ho detto È stata emessa Questa delibera Che ha dato già Un indirizzo politico Molto preciso Che andrà ad impattare Su varie situazioni Anche per quanto riguarda Queste situazioni temporanee E poi Nel prosiego Da qui Ai prossimi 3-4 mesi Ci sarà un percorso Che comunque Rivedrà anche Le situazioni Di queste Diciamo Proposte Che sono Solo come detto Di carattere temporaneo Andreolli Che ha presentato L'interrogazione Ha apprezzato La volontà Di cambiamento Regolamentare Ma ha invitato A scrollare Ambiguità Dal caso Di Via Beccaria Ha ragione Quando dice Che Ai sensi Dell'articolo 47 Si agisce Sostanzialmente È una delibera Tecnica Che non ha Un avvincolo Di mediazione Politica Ma nel momento In cui Arrivano Delle richieste Così Sul quale A fronte C'è anche Delle leggi Che esistono Il comune Ha Diciamo Soprattutto Con regolamento Attuale Con le forme Regolamentatorie Attuali In capo Il comune Di Pesaro Non ha Particolari Poteri Ma Si possono Avvisare I quartieri I residenti E I consigli Di quartiere Altrimenti Che cosa Ci stanno a fare Se non Quello di Portare Queste istanze E non farli Scoprire I cittadini La mattina Quando si svegliano Che hanno installato Questo impianto Davanti a casa Sul quale Legittimamente Poi dopo E' giusto Che la politica Sia Al massimo Trasparente E lucida Nel fare Queste analisi Senza lasciarsi Andare Di invettive Che poi Non condivido Neanche Rispetto a questo Cioè O una cosa Si può fare O una cosa Non si può fare Non si possono Stare da tutti I due lati Io francamente Sono contento Che si rivedrà Questo regolamento Magari Evitiamo anche Quegli scempi ambientali Come c'è stato A Firenzola Magari Però Oltre che a questo Io voglio capire Che cosa si intende fare Con quella Con quell'antenna Specifica Perché se si può fare Ci si assume La responsabilità Di dire Sì Si può fare Se invece Non si può fare Si deve dire Alla proprietà Che ha fatto La richiedente Che la deve Rimuovere Il partito democratico Di Pesaro Apparecchia Quattro giorni E quattro serate Di dibattiti E incontri Con la festa Dell'unità Che torna Da giovedì A Baia Flaminia Ritorniamo a Baia Flaminia Per la festa Dell'unità Festa Pesaro È un momento Diciamo ormai Annuale Per La politica Pesarese Per ritrovarsi Per Confrontarsi Per discutere Per trovare Un'occasione Del tempo Propizio Per vedere Un po' Come vanno Le cose Questi quattro giorni Da giovedì A domenica Avranno Tre momenti Durante la serata 19.30 20.30 21.30 Caratterizzati Da iniziativa politica Confronto E anche Momenti leggeri Di spettacolo E di divertimento Chiaramente Avremo Degli esponenti Nazionali Del partito democratico A cominciare Da giovedì Con Nicola Zingaretti Che Avrà un confronto Con l'esponente Stefano Patuanelli Del Movimento 5 Stelle Ovviamente Il tema centrale Sarà Quale opposizione Al governo Meloni E così Cercheremo Un attimo Di trattare Questo tema In maniera Molto dinamico Molto aperto Nella giornata Di sabato Ci sarà Il presidente Del PD nazionale Presidente Dell'Assemblea Stefano Bonacini Alle 21.30 E apriremo Una finestra Anche su tutta La problematica Ambientale Dell'emergenza Ambientale Perché ci sarà Vicino lui Il sindaco Di Cantiano Alessandro Piccini Un momento Particolare Ci saranno Alcuni momenti Di riflessione Sulla politica Regionale Chiaramente Sulla situazione Della sanità Ci sarà Uno spazio Venerdì Alle 19.30 Ci saranno Alcuni spazi Relativi Alla discussione Sulle tematiche Ambientali Questo focus Sarà Sabato Alle 19.30 È un'iniziativa Curata Dai giorni Democratici Delle Marche E all'interno Di questi Quattro giorni Abbiamo anche Collocato I cosiddetti Laboratori Tematici Che abbiamo Già svolto In un paio Di occasioni Sui servizi E sulla cultura All'interno Di questa festa Ci sarà Il terzo laboratorio Che sarà Sabato Alle 20.30 Il tema Sarà La città Del futuro Pesaro Che cambia La città Del futuro L'abbiamo titolato Di che cosa Si parlerà Si parlerà Delle trasformazioni Che in qualche modo Ci sono di fronte Nei prossimi anni Con tutti i progetti PNRR E fondi vari Che la città Ha acquisito Ci sarà Il tema Del Green Line Del progetto Di arretramento Della ferrovia Diciamo Un po' Tutte queste sfide Che in qualche modo Sono state lanciate Che la città Ha raccolto Le tratteremo All'interno Di questa Festa Proprio perché Sarà Un'ulteriore Tappa Un'ulteriore Punto Verso Diciamo L'elezione Del prossimo anno Torna L'evento Aggregativo Per eccellenza Dell'estate Pesarese Parliamo Del Paglio Dei Braceri Che è pronto A tornare A Rocca Costanza Con quattro giornate Un inno E la corsa Nel fossato Per ben 16 Contrade Ci eravamo Lasciati Un'estate fa Con la prima volta Della contrada Di Villa Fastigi A vincere L'ambito ciocco Piazzandosi Davanti a tutti Nel traguardo Del fossato Di Rocca Costanza Ora Il Paglio Dei Braceri 2023 È pronto A tornare Con un'edizione In formula piena Dopo la frammentare Ripartenza Post-Covid Quattro giorni Dal 27 al 30 luglio Con la gara Della domenica Preceduta Da serate In allegria In mezzo Al ritorno Degli stand Gastronomici Delle esibizioni Musicali Degli artisti Di quartiere E del tiro Alla fune Un Paglio Che partì 11 anni fa Con 7 contrade Che fra due weekend Ne vedrà ben 16 Pronte a colorare Rocca Costanza L'undicesima edizione Torna a Pesaro Questo evento Che comunque sia Coinvolge tutta la città Quest'anno Sfidarsi saranno 16 contrade Con una bellissima sorpresa Perché Si è unita La contrada di Pozzo Una nuova contrada I loro colori Sono giallo Nero E rosso E assieme a tutte Le altre contrade Domenica 30 di luglio Nel fossato di Rocca Costanza Porteranno la loro Allegria E la loro energia Dicevo 11 anni di manifestazione Non ci credevamo Neanche noi Quando siamo partiti Ma oggi possiamo dire Che il Paglio È entrato Nelle viscere Della città Chiaramente Non di tutti Però di quelli Che in qualche modo Hanno voglia di vivere Una città Diciamo diversa Una città più aperta Più divertente E questo è quello Che vuole il Paglio Di Braceri Fondamentalmente Fare quattro giorni In cui Tutti gli amici Di Pesaro Si ritrovano E possano comunque sia Condividere dei momenti Di sport Eccetera E un'altra cosa Molto interessante Che quest'anno Abbiamo avuto La possibilità Di scrivere una canzone L'ino del Paglio Grazie a Davide Pagnini E i nostri collaboratori E loro sono Riusciti a scrivere Un inno Veramente molto bello Che uscirà Nelle prossime giorni Sia sui social Sia su Radio Prima Rete Ho avuto la fortuna Di contattare Massimiliano Santini E gli ho detto Guarda abbiamo un bel progetto Con l'associazione Con Davide Pagnini E lui mi ha incontrato Dimmi pure Vorremmo regalare l'inno Al Paglio E alla città Lui è rimasto entusiasta Abbiamo lavorato per il testo Davide Pagnini Il cantautore Ha lavorato in sinergia Per le parole Perché dobbiamo trasmettere Un messaggio fondamentale Importante Grazie a tutti Perché è stato veramente Un bellissimo progetto Poi c'è stata la casa discografica Che ci ha supportato La PMS Studi Raffaele Montanari Per concludere Questo bellissimo progetto Dopo aver dotato Dallo scorso settembre Le scuole primarie Di impianti Di ventilazione Meccanica controllata Un altro importante risultato Per i plessi scolastici Di cartoceto In termini di vivibilità Degli spazi interni Con l'avvio del prossimo anno Infatti la scuola secondaria E tutte quelle dell'infanzia Saranno dotati Di nuovi purificatori d'aria Per il sindaco Rossi Si tratta di due interventi Resi possibile Grazie ai contributi Della regione Marche Per un investimento Di 135 mila euro Comprensivi di cofinanziamento Comunale Derivanti da due bandi Promossi dall'allora Assessora all'istruzione Giorgia Latini Ennesimo riconoscimento Della città di Pesaro A Marco Manzini Il campione paralimpico Di taekwondo Ha abbattuto un'altra barriera Conquistando la cintura nera Terzo Dan E diventando campione italiano Di taekwondo Per i suoi meriti sportivi E umani È stato premiato ieri sera Sul palco di Piazzale della Libertà Dal sindaco e vice sindaco Matteo Ricci e Daniele Vimini Oltre che dal prefetto Emanuela Saveria Greco E domani c'è il terzo E ultimo appuntamento estivo Per la decima edizione Di Vaghe Stelle dell'Orsa Rassegna poetica e musicale Ideata da Laura Corraducci E organizzata dall'associazione Amici della Prosa Alle 21 Alle 21 nelle cortile Dei musei civici di Pesaro Interverranno Stefano Simoncelli E Beatrice Zerbini Mentre Luca Pizzolitto E curerà il tributo A Francesco Scarabicchi Ricordiamo che l'appuntamento È anche sulla pagina Facebook Di Vaghe Stelle dell'Orsa Grazie a una diretta A cura di Rossini TV Che si potrà anche rivedere Sul nostro canale 80 Domenica alle 21 E lunedì alle 15 Ed ora vi segnaliamo Anche un altro appuntamento Che sarà seguito Dalle telecamere Di Rossini TV Quello di Mira Al Teatro d'Estate Che il 21 luglio Avrà il suo secondo Di 15 appuntamenti Con voci e musica Di una notte di mezza estate Portato in scena Dal coro Grillo d'Oro E da ex novo coro Urbano 70 magnifiche voci Dirette dal maestro Gabriele Foschi Che unisce generazioni diverse Con l'obiettivo Di raccontare emozioni Attraverso la musica Due cori Che collaborano Alla realizzazione Di un unico percorso Con la leggerezza Dei più giovani Che porta l'intero gruppo Vitalità Unita all'entusiasmo Degli adulti E sono davvero tanti In questo mese di luglio Gli eventi culturali Ed intrattenimento Che si trovano Nella nostra provincia Di Pesaro e Urbino A tal proposito Vi ricordiamo Che parte giovedì 20 luglio La festa del prosciutto Di Carpegna Dopp Come ci viene illustrato Dal sindaco Mirco Ruggeri Intervistato Dalla nostra Nicoletta Tagliabracci Il grande evento Dell'estate di Carpegna E la festa Dedicata al prosciutto Di Carpegna Dopp Bravissima Allora Il calendario Delle manifestazioni estive È sicuramente Molto nutrito E c'è veramente Un palinsesto Interessantissimo Però è chiaro Che la fada padrone La festa del prosciutto Che ci sarà Al prossimo weekend Il taglio del nastro Della festa Sarà giovedì sera Alle 20 Con tesori a palazzo Che è una cena gourmet In un'atmosfera Molto molto particolare Con Diciamo alle spalle Palazzo dei Principi Ed è appunto Nel giardino Di Palazzo dei Principi Quindi la location È sicuramente Molto suggestiva Ed è sicuramente Attrattiva Per chi verrà A questa cena Che comunque sarà Anche una cena Gourmet Come dicevo E quindi Dai sapori Dai sapori Veramente buoni E anche lì La fada padrone Il prosciutto di Carpegna È a cura Della Proloco La festa del prosciutto Che ci sta dedicando Tanto tempo Ci sono tanti eventi In calendario Dalle orchestre All'animazione Alla moto prosciuttata Insomma Ci sono tante cose E forse il momento Più bello Sarà quello del paninone Verranno stesi qua A 70-80 metri Di tavoli Dove sarà steso Un paninone Farcito col prosciutto Di Carpegna E chi vuole Potrà assaggiarlo Con il paninone E vogliamo entrare Nel Guinness Dei primati? Allora Ci avevamo pensato E volevamo fare La piadina più grande Del mondo Poi c'è stato Qualche Inciampo Sull'organizzazione Perché nel senso Che comunque Richiede Un'attrezzatura Molto particolare Che ancora Quest'anno Non siamo riusciti A Così A organizzare Però Sicuramente Nell'obiettivo Concludiamo oggi Il nostro telegiornale Con un approfondimento Dedicato Alle opportunità In edilizia Offerte Da una realtà Pesarese Che ha inaugurato La sua sede Davvero Da pochi giorni L'eco casa Nasce nel 2020 Ma oggi Finalmente Abbiamo inaugurato I nostri Nuovi uffici Qui in via Virgilio 31 A Pesaro Quindi se siete in zona Veniteci a trovare L'eco casa Si occupa Dell'edilizia A 360 gradi Facciamo Dallo studio Di fattibilità Del progetto Quindi la parte Tecnica Alla realizzazione Delle opere Con delle imprese Specifiche In questo settore Collaboriamo Con 5-6 imprese Del territorio Alla parte Burocratica Amministrativa Quindi in questo modo Il nostro cliente Ha un unico Interlocutore Grazie a noi Gli amministratori Di condominio E i vari clienti Non si devono Interfacciare Con tutte le figure Che entrano Nel cantiere Ma hanno Una soluzione Con chiave in mano Con un unico Interlocutore In questo caso L'EcoCasa Nasciamo nel 2020 Ma in realtà Abbiamo una storia Trentennale Alle spalle Perché l'EcoCasa È fornamata Da un'impresa edile La Pesaro Casa Che anche lei È qui del territorio Pesarese Da oltre 30 anni E Michele Visconti Uno studio tecnico In direzione Tecnico E sicurezza Del cantiere L'EcoCasa È riuscita Negli ultimi anni A realizzare Oltre 30 condomini Di una notevole importanza Sulle 20-30 unità Immobiliare A condominio Il nostro core business Sono i condomini Il rifacimento esterno Delle facciate Ci stiamo affacciando Negli appalti pubblici Ci siamo certificati SOA o G1 Categoria 4 E ISO 9001 Questo ci sta permettendo Di gareggiare Agli appalti pubblici Sia nel Pesarese Sia nella provincia Di Pesaro Urbino Terzo e ultimo settore Ma non per importanza Ci stiamo affacciando All'immobiliare Cosa consiste Nell'acquisizione Di edifici Ristrutturazione Divisione In varie unità immobiliari E rivendita L'abbiamo fatto in passato E lo stiamo Rientraprendendo In questo momento La nostra forza principale È quella del condominio Quindi la riqualificazione estetica E riqualificazione energetica Dei fabbricati Dei condomini E sono oltre 30 anni Che ci occupiamo Di ristrutturazione Tra virgolette Dal punto di vista estetica Con gli ultimi incentivi E con le ultime proposte Abbiamo ampliato Il nostro raggio d'azione E ci siamo spostati Anche alla riqualificazione Dal punto di vista energetico Perché comunque Sarà il futuro Cioè è già Il futuro Anche con il discorso Casa Green Europa Che ci obbligherà A riqualificare gli immobili Dovremmo sicuramente Realizzare Interventi Ecosostenibili Che potrebbe essere Gli infissi Le caldaie Il cappotto Comunque una riqualificazione Energetica E noi come impresa Ci siamo Sono già Alcuni anni Che lo stiamo facendo Anche prima Che uscissero le normative Ma soprattutto In quest'ultimo anno Sfruttando Le possibilità Date dal bonus 110% La struttura È formata Da Quattro Persone E Quattro persone Due quote Giovani Giovani Io li chiamo Che sono gli elementi Proprio trainanti Della struttura E due quote Un po' più mature Per non usare Altri termini Con almeno Un'esperienza Trentennale Alle spalle Quindi la fusione Di questi quattro elementi Ha dato origine All'EcoCasa Che poi Collaborando Con Altri geometri E collaboratori Interni Ragionieri Il commercialista E soprattutto Le imprese Subappaltatrici E esterne Con le quali Collaboriamo E collaborano Nel senso che È impensabile Che da soli Si possa realizzare Un volume d'affari Come quello Che è stato realizzato Negli ultimi anni Ditte che Prendono da noi In appalto Le opere Le realizzano Tutta la parte Tecnica Riferita Alla direzione Lavori Alla sicurezza Nella quasi totalità Dei casi La svolgo io In tante altre situazioni Invece Collaboriamo Con tecnici Specializzati E La struttura Il basamento Dell'EcoCasa È dato da Tre Punti fondamentali Che sono La Ecosostenibilità Sono L'innovazione Tecnologica E L'etica Etica Sulla quale Sulla base Della quale È fondata Proprio La nostra società E con questo Approfondimento In termini Di edilizia Grazie A DecoCasa Concludiamo Il nostro Telegiornale Di questo Martedì 18 luglio Ma vi ricordiamo Gli appuntamenti Sulla nostra Emittente In questa Prima serata Delle 21 Eventi Dedicata Allo speciale Realizzato Alla Cascina Delle Rose Di Sant'Ippolto In occasione Dell'Assemblea Ordinaria Dei soci Di Confapi Pesaro E Urbino E vi ricordo Anche l'appuntamento Con Buongiorno Rossini La nostra segna stampa Che va come di consueto In diretta Dal lunedì Al sabato L'appuntamento Alle 7.20 Anche con Diretta Facebook E invece Si conclude Qui questo Spazio Informativo Di Rossini News Da parte mia E di tutta La redazione Vi auguro Una buona serata In compagnia Dei nostri programmi Grazie a tutti